Ucraina, Kyiv, quartiere presidenziale. Volodymyr Zelensky esce dall'ufficio, fa quattro passi e saluta il giornalista più famoso d'Italia. Così è iniziata l'intervista rilasciata dal presidente ucraino a Bruno Vespa. Andata in onda porta a porta, è stata seguita da moltissimi italiani. Dopo una piuttosto lunga conversazione, spesso emotivamente intesa e dallo stesso tempo molto calorosa, Bruno Vespa ha invitato il presidente Zelensky ad intervenire tramite un videocollegamento al festival di Sanremo e ha dato questa notizia agli italiani durante l'intervento nella puntata Domenica Inn. Mara era emozionata, la gente nello studio applaudiva. Zelensky, so, sapevo che voleva venire a Sanremo. A Sanremo? Bene, io ho parlato a Amadeus, sì, insomma il collegamento è una frattura. In collegamento, ho parlato con Amadeus e io ho potuto dire, caro presidente, lo aspettiamo nella serata finale del festival. Questa è una notizia, questa è una notizia. Ma dopo gli applausi della gente sono arrivate le dichiarazioni di alcuni politici. Fra costoro ovviamente i famosi pacifisti, scusate scusate, i pacifinti, chi organizzava le marce per la pace, chi andava dicendo che le armi non servono all'ucraini, chi parlava dei negoziati che la Moscovia voleva così tanto. Certo, certo, il Movimento 5 Stelle. Io non credo francamente invece che sia così necessario avere il presidente Zelensky in un contesto così leggero come quello di Sanremo. Stellare! A questo punto vorrei applaudire in stile Nancy Pelosi. Ricordate quell'applauso famoso? E ancora una volta applaudire nello stesso stile Vittoria Sgarbi. Non è la prima volta che lo merita. Zelensky farebbe bene a non partecipare a Sanremo per non essere utilizzato come una vellina da Amadeus. Devo ammettere che il signor Sgarbi è molto in tema. Sa quando bisogna urlare che la cultura deve stare fuori? Dalla politica e quando no? Non sarebbe male che cambiasse l'idea? O forse l'idea l'ha già cambiata? Ecco qua per esempio nell'intervista rilasciata all'Opinione nel 2021. Se uno vuole anche con risorse limitate la cultura può essere centrale. Nella cultura c'è anche la democrazia. Nella cultura c'è anche la politica. Ma forse si tratta di qualche altra cultura? Non saprei. Andiamo avanti. Nell'elenco di quelli che vorrebbero fare lì intellettuali e che hanno detto il loro no a Zelensky al festival di Sanremo. Troviamo anche Alessandro Di Battista. Che l'unica cosa che chiede è più armi. A me non vado a ascoltare. Un modo per cercare la visibilità? Chissà. Non vieto nessuno. A me chi sono per vietare. Ma è il concorso degli spiritosi se esistesse. Lo avrebbe potuto vincere Matteo Salvini. Speriamo che Sanremo rimanga il festival della canzone italiana e non altro, ha commentato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Salvini ha chiuso l'argomento Zelensky con una battuta. Non so come canta, ho altre preferenze. Non credo sia un commento adeguato alla sua posizione nel governo. Sembra che le sue giornate passate nella piazza rossa siano tuttora indimenticabili. Fa ridere? Non proprio. Come non fa ridere il video del festival Sanremo del 2013 a proposito di piazza rossa, pacifisti e delle guerre di Putin. Il coro dell'armata russa canta a Sanremo l'italiano insieme a Toto Kutunio, cioè con la stessa armata che aveva invaso la Cecenie, la Georgia. E un anno dopo è entrata nelle regioni ucraine della Crimea e del Donbass. Lasciatemi cantare con la chitarra albano. Sono sempre gli stessi quelli che dicevano che stavano salvando la Siria. Sapete in che modo? E sono sempre quelli che da 11 mesi stanno conducendo una feroce guerra di invasione contro l'Ucraina. Dove erano tutti questi pacifisti che oggi fanno le battute su Zelensky a Sanremo? Dal festival della canzone italiana mi aspetto delle canzoni. E se un giorno di tempo a Mosca ci vuole andare, una volta lei vuole andare a Mosca e tentavo di dire diplomatica. Ma vi ho così tanto da fare in Italia. Non è Zelensky ad acquisire fama perché oggigiorno è già l'uomo più famoso del mondo. Ma è il festival di Sanremo a guadagnare audience internazionale grazie a Zelensky. Le piattaforme culturali più importanti del mondo hanno già dato spazio al presidente ucraino. Ai Golden Globes negli Stati Uniti, al Festival del Cinema di Cannes, al Festival di Cinema di Venezia, al Festival di Glastonbury in Gran Bretagna, sono soltanto alcuni degli eventi culturali dove Zelensky è stato ospitato. Il cinema non deve tacere, ha detto a Cannes. A Venezia ha mostrato l'elenco dei bambini ucraini che non sono andati a scuola quest'anno perché sono stati uccisi. E a Glastonbury ha ricordato quanto è importante dire la verità. La petizione dell'intellettuale è spuntata proprio nel periodo in cui il governo italiano sta preparando un altro pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Queste manipolazioni dell'opinione pubblica assomigliano tantissimo ad un modo superanti che piace molto ai russi. Creare confusione e dividere la società. I vecchi metodi della Luddanka. E' proprio per questo l'attenzione sul dramma di un paese invaso deve restare alta in qualsiasi modo, anche con Sanremo.